signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e nuovamente da questo eccezionale libro ok la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943 un libro che ci parla anche e soprattutto dei mezzi meccanici del rigio esercito come impianto iconografico però userò insomma come immagini userò come sempre da un po di tempo a questa parte la seconda guerra mondiale di arrigo petacco il quarto volume dove c'è la scheda tecnica della autoblindo lince ok l'autoblindo lince ci dicono ceva e curami era una piccola autoblinda da esplorazione ideata progettata costruita nel 1943 e pesava tre tonnellate lunga 3 metri e 24 larga 1 e 75 alta un metro e 65 corazzata con una protezione massima di 14 millimetri il motore era un lancia astura da da 60 cavalli la velocità massima era di 86 chilometri orari per una autonomia su strada di 350 chilometri un equipaggio di due uomini e l'armamento di una mitragliatrice breda 38 da 8 millimetri allora ceva e curami ci narrano la storia della lince che era un mezzo esplorante allora quando durante la grande guerra gli eserciti inglese francese e tedesco provarono per la prima volta nelle insanguinate pianure francesi i progenitori degli attuali mezzi corazzati il regio esercito impegnato com'era in una guerra che si svolgeva esclusivamente su di un teatro montuoso non ebbe modo di intraprendere studi su queste nuove armi il ritardo del il ritardo l'evidente ritardo della nostra meccanizzazione perché oggettivamente sul fronte italiano della grande guerra i carri armati ahimè potevano fare ben poco dato che si trattava di una di postazioni montagnose e su terreni estremamente accidentati allora e si pensò invece di indirizzare le ricerche verso un adeguato sfruttamento di quella nuova invenzione che l'industria produceva con caratteristiche sempre migliori cioè l'automobile fecero così la loro comparsa sul teatro italiano dei combattimenti i primi autocannoni e le prime autoblindo bianchi e lancia queste ultime avranno modo di operare in alcune zone anche nel secondo conflitto mondiale passata la guerra però gli interessi delle alte sfere militari si rivolsero in maniera sempre crescente verso l'impiego dei carri armati lasciando lo sviluppo delle otto mezzi ruotati fermo poco più che sul nascere insomma come sempre in ritardo eh signori come sempre allora così quando scoppiò l'ultimo il quando scoppiò la seconda guerra mondiale le nostre forze corazzate si trovarono equipaggiate con pochissime autoblinde e fra queste molte erano molto antiquate risalenti alla prima guerra mondiale quelle moderne erano sì ottime macchine ma a parte l'eseguità del numero erano mezzi piuttosto ingombranti destinati a controlli ed operazioni a medio e lungo raggio non si era pensato insomma a studiare dei piccoli automezzi tipo le scout car inglesi che servissero per compiti di esplorazione controllo e collegamento a corto e medio raggio e ebbene sì purtroppo poco dopo l'inizio delle operazioni in africa settentrionali dovemmo accorgerci ben presto di tale lacuna perché gli inglesi usarono a nostro danno una grande quantità di mezzi di questo tipo ruotati e cingolati con ottimi risultati vi ricordate quando vi ho parlato del brand vi ricordate quando tramite questo libro vi ho citato le relazioni dei combattimenti tra autoblindo dei primi mesi del 1940 eh ok allora 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 come succede spesso in questi casi si cercò di correre ai ripari ma lo studio e la realizzazione di un nuovo mezzo avrebbero richiesto decisamente troppo tempo si pensò allora di far ricorso al più sbrigativo dei sistemi prendere lo spunto e copiare in parte il modello catturato di un'arma nemica che avesse dato buoni risultati allora la scelta cadde su una piccola autovettura da ricognizione inglese prodotta dalla daimler conosciuta col nome di dingo il cane del deserto australiano si occuparono della realizzazione del nuovo mezzo due prestigiosi nomi dell'industria italiana la lancia per la parte meccanica e la ansaldo per quanto riguardava la carrozzeria purtroppo la lince che insomma il velicolo si chiamava così uscì dalla catena di montaggio troppo tardi per poter partecipare alle operazioni del teatro africano nel quale sarebbe stata tanto utile allora era una vetturetta ideata in origine per soli scopi di ricognizione era divisa in due compartimenti interamente blindati uno per il motore e uno per l'equipaggio e ricalcava praticamente le caratteristiche della dingo copiata pari pari la lince eccola qua la versione italiana della daimler dingo per la parte meccanica si erano adattati allo scopo componenti già esistenti in modo da risparmiare tempo il motore era quello utilizzato dalla lancia astura un 8 cilindri av di 60 cavalli la maggior differenza che intercorreva tra dingo e lince era che la prima era disarmata e la seconda aveva una mitragliatrice breda 38 da 8 mm che permetteva anche di svolgere missioni di appoggio alla fanteria nata troppo tardi la lince ebbe tuttavia un impiego operativo nell'esercito della repubblica sociale italiana dei circa 250 esemplari prodotti la maggior parte sarà infatti utilizzata dalle truppe corazzate repubblicane altri verranno invece impiegati dalla wehrmacht nelle operazioni belliche che si svolgeranno fino alla fine del conflitto in italia insomma la autoblinda ansaldo lancia lince un eccellente mezzo da esplorazione un eccellente mezzo da ricognizione un mezzo che in africa ci sarebbe servito come il pane perché era un pattugliatore era un come dire un mezzo di esplorazione e ricordatevi sempre che in un teatro come quello desertico l'esplorazione è fondamentale ricordatevi quello che ci dicevano ceva e kurami riportando riportando i rapporti e le relazioni dei nostri comandanti carristi al momento del debutto operativo dei nostri carri contro contro le formazioni britanniche che si trovarono molto a mal partito contro le agili veloci e affidabili piccole autoblinde inglesi le dingo le dingo furono un eccellente mezzo perché come dire come mezzi scout come insomma come scout come mezzi da ricognizione avevano decisamente pochi rivali la lince poteva essere anzi era sicuramente un ottimo progetto era sicuramente un mezzo razionale e affidabile ma come sempre non vide mai non poté mai vedere l'impiego nel teatro operativo per cui era stata creata ovvero sia l'africa settentrionale italiana perché quando entrò in produzione noi eravamo già stati sbattuti fuori dalla tunisia tutto quindi cari signori io come sempre e aspetto i vostri commenti per come dire saperne di più sulla lince e come sempre arrivederci al mio prossimo video ciao